E rieccoci carissimi amici di GRP, ci troviamo a un nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Luigi Torchio, che saluto? Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, ricordiamo, medico-chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata, studioso di medicina naturale ed esperto nutrizionista. Dunque, dottor Torchio, con lei oggi voglio andare a parlare dei diuretici e dei drenanti naturali, anche perché è un argomento alla quale anche le donne, ma anche le ragazze si sono molto avvicinate, quindi capire anche quanto bisogna bere, quando bisogna bere i diuretici, il quantitativo, quando servono, ci spieghi un attimo il perché e soprattutto anche quali sono gli alimenti che causano più ritenzione idrica e più cellulite? Allora, gli alimenti che causano più ritenzione idrica e di conseguenza, come dici tu, più cellulite sono tutti gli alimenti molto salati, quindi noi non dobbiamo soltanto fare attenzione al sale che mettiamo negli alimenti, ma io posso non toccare il sale dal mattino alla sera e mangiare anche un piatto di legumi senza sale, ma se poi mangio 50 grammi di parmigiano, 150 grammi di tonno bresaola, dei crackers, quello che io ho già superato di gran lunga il dosaggio giornaliero dei più o meno 4 grammi che raccomanda l'OMS per il sale. Quindi noi dobbiamo pensare che quando assumiamo alimenti salati in origine e non ce ne accorgiamo, anche un tarallo, magari salutare, fatto con l'olio di oliva e una buona farina, può contenere troppo sale e questo ovviamente ci darà ritenzione idrica. Quanto dobbiamo bere? Esatto. Dobbiamo controllare il colore delle urine, se l'urina è troppo scura, addirittura arancione, vuol dire che è troppo densa e abbiamo obbligato il rene a lavorare con pochissima acqua. L'urina quindi deve essere piuttosto chiara. Non bisogna neanche pensare di esagerare, soprattutto per chi lavora magari in un ambiente abbastanza fresco, d'inverno, quando non si suda e non si fa un lavoro sedentario, è inutile bere 3-4 litri d'acqua, a caso mai d'estate dobbiamo aumentare notevolmente. Quindi il consumo dell'acqua va regolato sul proprio stile di vita e guardando l'urina, che non sia troppo scura, troppo carica di tossine. Per quello che riguarda invece i diuretici naturali, la natura ci offre di tutto di più. Allora, praticamente noi partiamo da citare tutta la frutta acquosa, non soltanto gli agrumi, che sono dei frutti invernali, ma tutta la frutta acquosa che arriva poi d'estate, proprio a proteggerci, quindi anguri e melone. L'ananas è un diuretico potentissimo. Assolutamente, l'ananas è un diuretico eccezionale, quindi associato per esempio proprio ad anguri e melone e ai mirtilli che proteggono i capillari sono un, come posso dire, cocktail fantastico per proteggerci nella stagione, chiamiamola calda e comunque sia in generale. Ti posso ancora parlare di verdure, perché le verdure amare hanno un effetto diuretico e anche depurante per il fegato, quindi ricordiamoci che le verdure possono anche aiutarci in abbinamento alla frutta e soprattutto riducendo gli alimenti salati in origine. Ma poi abbiamo ancora delle erbe specifiche. Se vuoi io te le cito. Assolutamente sì. Perché penso che tu le conoscerai. Intanto non bisogna esagerare sull'utilizzo dei drenanti, nel senso che i drenanti vanno utilizzati, ma ricordiamoci che se ne utilizziamo troppi mettiamo il rene sotto stress. Ok, quindi magari anche fare un po' di pause tra un ciclo di… Soprattutto non esagerare anche nell'arco della giornata con questi drenanti, perché tante ragazze che hanno questa fissazione del peso e tutto quanto abusano di drenanti e mettono il rene sotto stress. Quindi bisogna prenderli, ma nella giusta quantità e con le dovute cautele. Ok. Vi parlo di betulla, di pilosella, che sono anche erbe che proteggono il rene sempre nella giusta quantità. Vi parlo del tarassaco, che è diuretico ma anche disintossicante del fegato. Vi parlo del carciofo, anche qui disintossicante del fegato ma anche diuretico per quello che riguarda le viurinarie. Poi vi parlo di un trio di erbe eccezionali. Equisito uva ursina e ortica. L'equisito che è anche un rimineralizzante utile nell'anziano per l'osteoporosi. L'uva ursina che protegge le viurinarie. L'ortica, un altro rimineralizzante molto utile per l'osteoporosi. E poi abbiamo ancora la parietaria e la gramigna. E poi abbiamo tutta la famiglia delle bevande classiche, soprattutto il tè verde. Ma vi ricordo ancora che il sedano è diuretico. Certo. Guarda che è diuretico, i finocchi sono diuretici, anche perfino il cetriolo. Quindi ricordiamoci che una bella inseratona e un bel piatto di frutta assieme agli altri alimenti sono fondamentali per aiutare il nostro ricambio ad eliminare le tossine. E tutti questi alimenti si possono anche utilizzare con gli estrattori, che è anche molto più semplice e più rapido. Dottor Torchio, la ringrazio per i suoi preziosissimi consigli. A casa vi ricordo che se voleste rivedere una delle nostre tantissime puntate basta andare su YouTube e digitare i consigli del Dottor Luigi Torchio più il nome dell'argomento e della patologia al quale siete interessati. Vi auguriamo un buon proseguimento di visione. Grazie.